Nella seconda parte del tempo dedicato alle proposte dell'opposizione, il plenum del Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato la mozione del Gruppo Verde, confirmata dalla SVP, affinché l'ente pubblico sostenga l'accesso di associazioni e organizzazioni culturali all'affitto di locali vuoti da usare come atelier artistici e quella della City Roller Freiheit di esaminare la possibilità di integrare nel sistema Alto Adige Pass i parcheggi pubblici a pagamento della provincia. Respinta invece le proposte della City Roller Freiheit di impedire l'introduzione della patente a punti nei cantieri e di istituire un'emittente radio-televisiva autonoma del Team K di attivarsi per consentire l'iscrizione di odontoiatri e odontoiatre con conoscenza della sola lingua tedesca in un apposito registro dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, di prevedere nell'ambito dell'esame di bilinguismo per le professioni sanitarie un livello di conoscenza massimo solo in relazione al linguaggio specifico dell'ambito medico e di garantire il diritto a posto in una struttura di assistenza alla prima infanzia, nonché quella della Freie Fraktion per tariffe ridotte per l'attività di tempo libero per i residenti. La maggioranza ha proposto il disegno di legge sull'Istituto Ladino di Cultura che, come ha spiegato l'assessore Alfreider, adegua la struttura dell'Istituto alle nuove discipline amministrative riguardanti tra l'altro le posizioni dirigenziali e l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Esso è stato approvato all'unanimità. Via libera infine anche ad altre due proposte della maggioranza, un voto di SVP Freieheitlichen e la Civica per aumentare le pene per le aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine ed una mozione di la Civica SVP e Fratelli d'Italia per sostenere e potenziare le iniziative di coprogrammazione, di coprogettazione e le convenzioni tra gli enti pubblici del territorio provinciale e gli enti del terzo settore. Grazie